Ciao a tutti amanti della poesia! I versi che voglio condividere con voi oggi sono di Eugenio Montale e mi sono stati suggeriti dalla mia amica, nonché artista e scrittrice, Milena Rao. Quindi buon ascolto a voi e buona lettura a me con Portami il girasole, ch'io lo trapianti. Portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno gli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte. Queste in musiche, svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze. Evvapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce. Grazie per aver ascoltato fino alla fine, grazie a Milena per avermi consigliato questi meravigliosi versi. Ci sentiamo presto con una nuova meravigliosa poesia. Ciao da Rosanna!